Giovedì 24 luglio partirà il cartellone estivo della città di Silvi in questa prima tranche che andrà fino al 23 agosto. Sì, abbiamo realizzato un cartellone estivo fino alla fine di agosto per la prima parte, poi a settembre comunque ci sarà un surplus perché abbiamo anche altre iniziative da portare a termine. Siamo felici del cartellone che è stato proposto anche perché saranno tanti piccoli eventi che toccheranno tutta la città, soprattutto l'Arena dei Pini che sarà allestita a Piazza dei Pini sul lungomare e il rilancio di Silvia Alta con tante attività e spettacoli che si faranno sul Borgo Antico. Abbiamo dovuto predisporre tutta una situazione di security proprio per il fatto che comunque verranno contingentati, infatti avremmo disposto sedie con numero limitato e prenotazioni, proprio perché il Covid-19 ci ha imposto una limitazione in tal senso. Ecco, Mobbeterbende, tre giorni di Festa Country, tra le maggiori attrazioni di questa estate. Sì, veramente tante iniziative, partiremo diciamo il 24 con il Montepulciano Band e poi tantissime iniziative su tutto il territorio, soprattutto con i tre giorni che faremo a cavallo tra luglio e agosto, con la Festival del Country, tante prenotazioni addirittura anche da fuori territorio per un evento che sicuramente porterà molta allegria su Silvi.